Dalla mail, mi sarebbe immaginata da un filo differente, eh? Dalla mail, ci siamo sentiti via mail, dicono, era un'informazione, giusto? Io ho il telefonino, questo qui per dire, chi chiama di qui a Milano, se fosse... Un telefono, un telefono, non è proprio il mio telefono del mondo. Ma questo è dietrobole, eh? Questo che ha colori, eh? Ma poi ho messo anche l'applicazione per cercare i coccini. L'applicazione per cercare i coccini. No, ma questo è una delle sue dimensioni. Spagando per fare l'applicazione per cercare i coccini. Di certo tu mi trovai in mare quando eravamo in casa. Ma rispetto a quello, l'applicazione come esempio, questo lo sapeva anche senza il telefono. L'applicazione che io ora non è per quanta azione, ma... E a me internet, io sono per quanta azione. Ma io internet, su sponche, non rimonto. Quanto mi pare? Se sarei da salvagli un filo, perché in realtà, se ti gira, un gira internet, ce la fai di scherzo, perciò, ora ti metta... Lei salda i fili dell'internet? Certo! Perciò io internet, per dire, altri giorni ci mancia male, non gli scorrevo, ho questo un po' d'olio. Perciò io, guardi che i robot, mi erano oggi, e lì ho diventato il bambino, perciò, 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 che ce la fai del Bambino, in due cani, perciò, perciò, grazie. Certo! C'erano? Non me lo viene a telenovo, vai da un tiglio, Ok, tu? Ora io te lo faccio, perciò, che lo faccio? Io, perciò, gli sbutto, a casa mia, le ho preso un filo al televisore, e si sente come il firmatore, quando hai sentito, hai del 6 filo. Un attesto, le casse! le casse, le casse, le casse, le casse, le casse del camionaccio, erano andati a pigliar l'acqua, avevo usato le casse e ci stavano dietro, ma poi la cosa strana, per questa avviazione dei funghi, dei marciaroli, a settembre se ti trovi. Aspetta, ma io ho fatto una bella cosa, visto che io ho chiesto di lei, lei è un professore per un salzone, lei è un cretino, vada a cercare i funghi, grazie. Arrivederci. Sa che dalla Melio viene rimmaginata da un filo differente, eh? Ok.